Test rapidi antigenici gratuiti per tutta la popolazione di Montevarchi con un invito particolare a studenti ed anziani per ripartire anche con maggiore sicurezza il prossimo 7 di gennaio sui banchi di scuola. Sì, è una scuola importante perché noi siamo partiti a settembre prima dell'apertura delle scuole con i seriologici, poi quando c'è stata la possibilità sul mercato di acquistare i tamponi rapidi ci siamo attivati, ne abbiamo comprati prima mille, c'è stata un'affluenza incredibile nel mezzo di novembre quindi ne abbiamo acquistati altri 6 mila e regolarmente adesso tutti i sabati di gennaio verrà data la possibilità ai cittadini di Montevarchi, in questo caso anche agli studenti non residenti nel nostro comune ma che frequentano le scuole di Montevarchi, di prenotarsi online in maniera rapida e di venire ad effettuare un tampone rapido gratuito proprio per cercare di rientrare a scuola per le superiori se così sarà e comunque per i bambini dell'elementare e delle medie e per gli adulti per cercare di diciamo capire lo stato di salute dopo un periodo delle festività che come sappiamo per quanto credo che i nostri cittadini siano stati responsabili probabilmente hanno corso dei rischi quindi un modo per fare uno screening accurato della nostra cittadinanza, un modo per continuare a vivere in maggior sicurezza. Come li avete finanziati? Durante il lockdown abbiamo aperto una raccolta fondi emergenza coronavirus e i cittadini di Montevarchi hanno aderito diciamo dando un esempio eclatante del senso di comunità. Abbiamo quindi scelto insieme ai fondatori di questa raccolta fondi che è la Curva Sud, l'Aquila Calcio, le Memorie Rossi Blu e l'Avis quindi un mondo del calcio e delle associazioni importanti. Abbiamo scelto poi come investirle. Ho individuato sul mercato appunto questi tamponi rapidi che permettono di avere una diagnosi velocissima grazie alla disponibilità del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana ormai da novembre noi regolarmente diamo questa opportunità ai cittadini. Quindi sono i cittadini di Montevarchi che hanno contribuito a dare una mano in questa fase di emergenza alla propria comunità. Quante prenotazioni più o meno avete, una media? Abbiamo una media di 300-350 prenotazioni ogni volta quindi riusciamo diciamo grazie alla loro capacità ormai sono più che ferrati in alcune ore appunto del giorno di riuscire a dare un'importante risposta a un numero significativo di cittadini. Perché comunque è una sicurezza che il Comune ci metta a disposizione per essere più sicuri e quindi è sempre meglio prevenire diciamo e vedere se siamo comunque sani oppure no. C'è voglia di tornare sui banchi di scuola? Sì, soprattutto per stare con compagni e non stare sempre a casa davanti al computer che poi è stata una cosa pesa quindi c'è sempre voglia di tornare in mezzo ai banchi. Anche visto le feste comunque siamo stati tutti da parenti sempre rispettando le regole. Però meglio controllare? Meglio controllare dai, più che per me per i genitori. Perché vogliamo passare un po' di feste con i nonni quindi per il pranzo a casa per essere più sicuri di stare tutti insieme in sicurezza insomma. Ecco è una procedura che assolutamente tiene in sicurezza l'utente. Questo è un modello che potrebbe essere replicato anche nel resto del territorio nazionale? Diciamo che è auspicabile che possa essere ripetuto a livello nazionale sia come proposta verso l'utente sia come procedura sia come disponibilità ma anche come struttura stessa. Perché sono strutture modulabili e quindi possono essere convertite secondo le esigenze del territorio. Per cui possono essere più grandi, più piccole. Per cui ecco va incontro a diverse esigenze soprattutto in questo caso dell'emergenza Covid. Ecco nel caso ci sia un positivo come funziona la procedura? La procedura nel caso di un positivo viene subito avvisato, allertato il medico di competenza dell'utente. Contemporaneamente viene attivato anche l'USL tramite una comunicazione via e-mail e ovviamente il paziente in modo da dare via alla procedura e ai protocolli nazionali in caso di Covid.